Digitali è una rivista innovativa perché è fatta per gli innovatori, come Lorenzo che distribuisce server e storage. La tecnologia ti fa crescere e ti sostiene sempre. SNT mette in contatto le aziende italiane con i migliori rivenditori Fusizio e se sei rivenditore entra nella nostra squadra. Scopri la storia di Lorenzo su digitali.it Grazie a tutti.